un giudice italiano del signor ottavio perricone abbiamo qui la signorina costanza prego che mi fa compagnia e poi ok allora iniziamo con la prima Amélie Aschie Michelle Jack Russell Diana Cianan Crest and Dog Pierfrancesco Lagotto Romagnolo Francesco Pastore Australiano Riccardo Bassotto Giovanni con un Segugio Mare in Mano Giulia sempre con un Segugio Mare in Mano Diana con un Weimaraner allora benissimo come vedete nell'arrivo d'onore sono accompagnato dalla signora da signorina costanza da Melissa e da Sofia che ci aiuteranno nella disposizione dei cani allora in questo tipo di concorso il giudice non valuta il cane ma il binomio cioè come il giovane conduttore o la giovane conduttrice presenta il proprio cane il giudice valuterà come viene piazzato come viene fatto muovere il cane e che tipo di rapporto esiste il giudice fra il conduttore la conduttrice e il proprio soggetto ok parenti e amici dei ragazzi possono applaudire almeno loro anche perché questi saranno i futuri conduttori la speranza della cinofilia italiana e nelle loro mani perché fra vent'anni forse noi avremo un po' tutti quindi saremo andati tutti in pensione ok prego Michelle allora questo è un Jack Russell è un terrier presentato da Michelle ok vediamo come fa l'avanti indietro Michelle allora torna indietro Michelle brava allora Michelle ha deciso che basta ok benissimo salutiamo Michelle e vediamo adesso Diana Diana ha un cane molto particolare no? diciamo un cane molto buffo è un China Crest and Dog cioè un cane nudo cinese ok vediamo Diana torniamo indietro ok il giro finale Pier Francesco questa è una delle prime razze italiane che abbiamo modo di vedere oggi è un lagotto romagnolo ok Francesco mette a posto il cane bravissimo io direi che sono santi questi cani dobbiamo beatificarli questi cani Pier Francesco la signora si diverterà ok bravissimo allora vi ricordo che avremo sei in classifica e i punteggi acquisiti varranno per qualificarsi per le finali del prossimo anno probabilmente a Padova per eleggere lo Junior Ender dell'anno allora Francesco con un pastore australiano c'è una razza americana c'è una razza americana a dispetto del nome ok vediamo Francesco ok Francesco che ritorna con il pastore australiano allora Riccardo con un bassotto il bassotto abbiamo tre tipi di bassotto il Kaninken il nano e lo standard in base alla taglia ecco qua Riccardo torna indietro il cane è piccolo il percorso è più breve bravissimo ok Giulia no Giovanni scusate allora questa è un'altra razza italiana è un segugio mare in mano vediamo un po' è una razza abbastanza recente riconosciuta da poco in Italia ok torna indietro e abbiamo poi un altro segugio mare in mano con Giulia un segugio mare in mano con un pelo diverso a pelo corto l'altro era a pelo duro ok ok bravissima anche Giulia ok e concludiamo con Diana prego Diana prego Diana con un Weimaraner una razza tedesca e un cane da ferma ok allora allora ok allora ci siamo adesso il giudice sceglierà sei di voi oppure dirà a me qual è subito la classifica grazie a tutti allora abbiamo i sei che andranno a classifica ma c'è il premio per tutti mi dicono allora al sesto posto Riccardo con il Bassotto al quinto posto Diana con il China Crest and Dog al quarto posto il Weimar Runner vuole andare sul podio eh al quarto posto Michelle con il Jack Russell al terzo posto quindi per il podio Pier Francesco con il Lagotto Pier Francesco è contento al secondo posto è una signorina Amelie Aschi vince Francesco pastore australiano venite ragazzi venite a prendere il premio pure voi e e a a a Grazie a tutti.